Cornacci dell'Asiana I meanotti sono in piena corsa playoff e vogliono rimanere su questo treno, ma la sfida di Tesero non è così semplice come sembra. Riusciranno i gialloverdi a convertire la delusione in rabbia agonistica? Mezzo Corona Jovo La vittoria in extremis dell'ultima giornata ha permesso ai gialloverdi di scappare in fuga, ora l'obiettivo è mantenere le rivali a distanza. I Granata però sono reduci da un'ottima prova e non partono battuti. Mezzo Lombardo San Rocco Perdere lo scontro diretto di Meano è stata un'ammazzata terribile per lo spogliatoio rotagliano, ma mollare proprio ora sarebbe un errore. Cosa ci possiamo aspettare dai roveretani in questo match? Paganella Cauriol I ragazzi di Spangaro non devono sottovalutare questo impegno o rischiano di rovinare un ottimo campionato. Occhio alla prestazione dei neroverdi capaci di bloccare anche l'attacco del Mezzo Corona. Solandra Predaia I gialloblu si sono rilanciati nella corsa playoff e non possono più sbagliare questo tipo di partite. I Solandra però stanno pagando le troppe assenze e hanno dimostrato di poter dare del filo da torcere. Solterila rovere La compagine di Livio è attesa dal vero test di maturità di questa stagione. Riusciranno a battere sul loro campo la terza forza del campionato? O gli ospiti si confermeranno come tale? Riusciranno a battere